ciao a tutti ciao ragazzi benvenuti in questo video oggi in realtà andiamo a trattare qualcosa di diverso che non è un gameplay o un video di svago principalmente oggi andiamo a vedere come trovare un autoclicker e sarà il primo video di una serie dove andremo a spiegare come fare i controlli hack nel dettaglio ad ogni modo prima di cominciare con l'effettivo tutorial tutto quello che andrò a dire richiede una base di informatica per questo se non lo avete o non avete grandi dinastichezza col computer non preoccupatevi e se qualche passaggio non è chiaro sentite liberissimi di chiedervi nei commenti cosa non capite cercherò di rispondere subito insomma ad ogni modo cominciamo col primo tipo di clicker classico .exe senza niente di strano né rinominato né nascosto un classico .exe lo apriamo con doppio clic e vediamo che ci aprirà il menu classico dell'op autoclicker a questo punto non mi serve niente lo chiudo adesso prima di partire devo introdurre un attimo i file .exe in informatica essenzialmente ogni file in .exe rilascia delle tracce o meglio nella fattispecie un file in .pf localizzato nel prefice per accederci possiamo fare windows r o tasto destro esegui che però windows r troppo acero e andiamo a scrivere prefix a questo punto il prefice che cos'è il prefice è una cartera del sistema in cui logano tutti i file in .exe mi raccomando possiamo ordinare per ultima modifica quindi premendo qua vediamo che questi sono processi del sistema non ci interessano vediamo qua l'apertura del nostro autoclicker ad ogni modo questo metodo che non andrete quasi mai a fare in primo luogo perché è brutto e perché non non è essenzialmente utile quello che voi volete andare a fare è usare uno dei primi tools che andremo a vedere process hacker credo il più importante tool nei controlli principalmente su process hacker andremo a cercare il processo explorer che è essenzialmente la gestione file all'interno del computer a questo punto mi raccomando cerchiamo sempre di vedere se ci sono i permessi amministratori al programma possiamo o cliccare qua per mostrare tutti i dettagli oppure possiamo avviare process hacker con il tasto destro e avvia con l'amministratore a questo punto diamo i permessi controlliamo che non ci siano spunte qua su hide andiamo su properties togliamo questa spunta strings ora filtriamo per una minima lunghezza di 4 cerchiamo di declettare l'unicode per quanto possibile e spuntiamo image mapped a questo punto durante il caricamento una cosa utile sarebbe ottenere premuto control o spostare dalla lavagnetta perché se un utente premere esc durante il caricamento delle stringhe il caricamento sarà interrotto e non ci mostrerà tutto per questo motivo un consiglio fondamentale che vi do è quello di ottenere il tuo control in modo che faccia contro l'esc e venga questa cosa qua si può detectare il player che premere esc oppure possiamo semplicemente muovere questo cosa qua in questo modo se premere esc semplicemente non non farà niente quindi sì a questo punto in questo mare di stringhe che sono essenzialmente tutti i dati che compongono questo sistema che fa visualizzare i file che fa allocare noi andiamo a filtrare ovviamente contains case insensitive e andiamo a mettere pca client una delle prime stringhe che vedremo che cos'è il pca client il pca client è una stringa che ci permette di vedere gli ultimi 8 file .exe a partire dall'utente a questo punto andiamo a salvare come .txt search result e vedrete che qua dentro ci farà vedere gli ultimi processi eseguiti tra cui vediamo l'aspetto clicker ovviamente un buono un buon consiglio è quello di andare sempre a prendere la directory del file e controllare che ci sia ancora il file e che sia integro perché per esempio se eliminato il file un modo facile per trovarlo è trovare questa traccia copiare la directory andare su esegui incollare e vedere se il file c'è ancora e che file è a questo punto mettiamo caso che l'utente rinomini il file essenzialmente lo chiami gino ok e magari gli cambi icono faccia qualunque altra cosa per nasconderlo tutti i file rinominati logano un processo chiamato search indexer adesso noi possiamo filtrare andiamo su properties spuntiamo questo 4 e possiamo filtrare per file 2.c a questo punto possiamo ulteriormente filtrare per user s e di nuovo per punto ex a questo punto vedete che tra i file abbiamo il nostro gino e poco più sotto abbiamo anche come si chiamava prima con la stessa directory più semplicemente però possiamo usare un altro tool che si chiama winprefetchview essenzialmente quello che fa questo tool è leggere il prefetch e interpretare i dati come vedete adesso noi abbiamo la lista insomma dei file punto ex aperti e abbiamo il nostro file auto click se noi clicchiamo su properties possiamo vedere un sacco di cose interessanti come se manca il processo quindi c'è qualcosa che non va c'è qualche discordanza col nome perché noi l'abbiamo rinominato adesso vedete che se noi adesso andiamo a eseguire questo non ci sarà più perché per l'appunto l'abbiamo rinominato in gino possiamo vedere quando è stata l'ultima run e quando invece è stato creato e modificato a questo punto ci possono essere due metodi bypass uno è se l'utente elimina il prefetch secondo è se l'utente riavvia l'explorer quindi per intenderci se un utente fa explorer tasto destro restart ok cosa succede se faccio restart non lo farò perché sennò mi si interrompe la rec però quello che fa è ricaricare le stringhe dell'explorer in pratica si rifrescia lo schermo e le stringhe scompaiono quindi il pca client scompare e non posso più vedere l'apertura del file a questo punto quando il processo è riavviato vedremo che il suo arario di start sarà in discordanza con quello che è il csrss e qua introduce un altro processo fondamentale il csrss funziona come un explorer l'unica differenza è che se lo restarto crasha il computer quindi non si può riavviare e da qua possiamo effettivamente vedere quando il computer è stato startato se troviamo una discordanza con l'orario tra questo e l'explorer vuol dire che c'è qualcosa che non va altra cosa è che l'utente può cambiare l'orario del computer quindi per esempio può mettere l'utente mette l'orologio indietro restarte il processo poi rimette l'orologio avanti adesso queste cose quindi sia il prefetch eliminato che cambi di orario li vediamo in un altro tutorial dedicato a quello che è un po più incentrato su come trovare i metodi di bypass ad ogni modo ultima cosa per il punto ex è la regia edit in pratica la regia edit è registro il sistema di windows possiamo accederci facendo windows r regia edit la regia edit funziona a chiavi in pratica abbiamo le chiavi maggiori che sono queste quattro qua e poi abbiamo delle sotto chiavi in cui ci possiamo spostare per vedere tutto essenzialmente le directory sono come vedete tante ed è quasi impossibile ricordare se le tutte le memorie per questo consiglio salvarsene in un file e guardarle quando ce ne hai più bisogno qua cosa possiamo vedere nel momento al momento siamo nella cartella open save pd mirror vi darò tutte le stringhe più importanti in descrizione in questa cartella open save mirror possiamo vedere tutte le estensioni più importanti e che sono salvate nel computer e quando e quando l'utente ha scaricato un file con quell'estensione per esempio punto ex posso vedere qua per esempio interpretando alcuni dati qua scaricato zoom altra directory importante che potremmo vedere è quella per i prefetch parameters per vedere se l'utente ha disabilitato il prefetch anche questa link in descrizione a questo punto un valore se questo valore corrisponde a 3 il prefetch sarà visitato se questo valore sarà messo su 0 vuol dire che l'utente ha disabilitato manualmente il prefetch e i file non possono più loggare qua dentro un'altra directory utile è la directory user settings in questa chiave principalmente nelle tre più grandi possiamo vedere tutti i file in punto ex scaricati per vedere se c'erano tracce di clicker su qualcosa di non rinominato un'altra directory utile invece run mr può possiamo vedere tutte le cose che l'utente ha fatto su windows r o esegui in questo modo possiamo vedere modificare quello che l'utente ha fatto nella esegui e magari costato qualcosa o se ha eseguito qualcosa che non doveva ultimi due consigli utili per il punto ex sono questi il primo è di esaminare il file con process a infatti process hacker dispone di una funzione chiamata inspect executable file trovata qua possiamo selezionare il file sul desktop e controllare gli imports adesso noi andremo a cercare per tre stringa principalmente la prima stringa è send message e non è per forza bannabile ma è un click virtuale la seconda stringa per cui andremo a cercare mouse event è essenzialmente penso sia abbastanza specifico oltre ad essere un stuffer di fair games è anche la stringa che permette essenzialmente il click del mouse ed è bannabile l'altra stringa per cui andremo a cercare get us in case state che essenzialmente va ad associare la pressione di un tasto a un'azione non è essenzialmente bannabile però quando troviamo questa stringa dobbiamo stare attenti soprattutto perché vuol dire che c'è un qualche switch per attivare disattivare l'ultimo consiglio che vi do infine è invece esaminare la firma digitale del file se per esempio il file che troviamo si chiama google.exe possiamo verificare la firma tramite un altro tool chiamato last activity view anche questo file andrà a leggere sul prefetch quello che ci permette di fare di diverso da last activity view è controllare la firma digitale infatti qua possiamo vedere che i file ufficiali quindi originali hanno una firma digitale questa qua che certifica l'originalità del file file invece artigianali come un autoclicker o altro saranno privi di string e questo è quanto per il .exe bene quindi questo era uno dei primi tutorial teorici che farò per i controlli per cercare di aiutarvi per lo meno per quello che so lo so non ho mai fatto questo tipo di video credo di avervi dato le basi proprio minime non sono un grande screen share quindi sì i controlli li so fare ma non come li farebbe un professionista cerco di aiutarvi con quello che posso ecco ragazzi spero vi avete apprezzato noi ci vediamo con un prossimo video con un prossimo tutto ciao ragazzi